Quello che racconterò stasera lascia un po' così, oggi come oggi, perplessi. Una volta era una cosa normale. Cosa? Partiamo dall'inizio, una cosa veloce. Lunedì, primo settembre 1902. Per tutto il mese di settembre i varesini e i villeggianti non avranno che l'imbarazzo della scelta. Divertimenti e spettacoli per tutti i gusti e tutte le età. Il calendario delle feste settembrine si presenta quest'anno particolarmente ricco. 7 settembre, luminaria fantastica ciclo-automobilistica. Chissà cos'era. 7-8 settembre, congresso orticolo nazionale. Divertimenti popolari e umoristici. Illuminazione del monumento ai cacciatori delle Alpi. 7, 21 e 28 settembre. Occhio qui. Tiri al piccione e alla quaglia nello stand di Biumo. 11 settembre, festival di gara con premi e sorprese. 13 settembre, 5 ottobre, spettacolo al teatro sociale. 14 settembre, inaugurazione della mostra di macchine agricole e lanciata di piccioni viaggiatori. Chissà se sparavano anche a quelli lì. 21 settembre, convegno bandistico. 28 settembre, 2 e 5 ottobre, corsi al galoppo all'ippodromo di Masnago. Lunedì, 1 settembre 1902. Buona serata.